Eccoci qua collegati, Lally Gruber mi senti? Da studio? Sì, sì! Lally Gruber da studio! Noi volevamo... Lally Gruber? ...e scusa Lally Gruber! Lally Gruber vediamo... Non sento, ci sono delle interse... Non sento, non sento... Vediamo... Mi è sembrato di vedere un certo Magna Paolini, intervistiamolo! Magna Paolini, venga qua che facciamo qualche domanda! Ma io le mando e no! Io devo essere il disturbatore! Allora, richiamiamo... Don! Quindi è solo dietro, non mi rimane a domani! Noi volevamo sapere un po' di più di questa tournée, insomma, dove andate, cosa fate... No, però lei si deve concentrare, stiamo in diretta, mi scusi, eh! C'era la Italia, Europa... Ma questo pellegrinaggio, ci sentite un po', questo pellegrinaggio... Sì! Vogliamo più notizie! Siamo partiti circa un anno fa... Però manca poco... Stiamo quasi per arrivare a questo momento!